buonasera a tutti benvenuti a questa serata o nebu salutiamo la nostra relatrice la nostra illustre archeologa emina usai della soprintendenza di cagliari di sassari di nuoro quante ne hai fatto emina solo cagliari basta ma solo cagliari bene allora anzitutto ecco anzitutto salutiamo tutti i nostri amici vado a condividere il nostro la nostra diretta che dovrebbe essere iniziata eccoci qua sì siamo già in diretta allora emina stasera abbiamo i nostri amici dell'associazione unebu che ci guardano ma abbiamo anche tanti altri amici ci sono i circoli dei sardi in italia e all'estero ci seguono un po da tutto il mondo è dalla venezuela dal messico fatto una conferenza per il circolo dei sardi a milano ecco ecco sono stati affettuosissimi ma i circoli dei sardi sono il nostro bigliettino da visita in giro per il mondo quindi loro si occupano di promuovere la nostra isola tu hai dedicato la tua vita a questa materia all'archeologia e quindi sai bene cosa vuol dire promuovere all'estero e in italia naturalmente i nostri beni culturali quindi salutiamo tutti gianni garbati dal circolo icnusa di madridi che ci sta seguendo con la collaborazione dell'istituto fernando santi della sardegna ciao a tutti tutti i nostri amici unebu chi vuole condividere naturalmente questa diretta ci fa ci fa tanto piacere perché più siamo più questo video viene visto insomma dai vari gruppi e mina noi abbiamo tantissime immagini oggi da mostrare tu sei una bravissima divulgatrice io ti ringrazio questo periodo sono molto svogliata visto che sei svogliata aver accettato l'invito mi fa solo piacere vuol dire che nonostante tutto quando ti chiama pierluigi si è disponibile disponibilissima onoratissima quando mi chiama pierluigi che fa un lavoro bellissimo per la per la diffusione di questi beni culturali e poi è un uomo molto gentile non è arrogante come ha scritto nel suo nel suo profilo ed è vero perciò sono con te tu mi conosci di persona sicura perché non lo so quando si parla così non si sa mai perciò no vabbè noi noi andremo a braccio però faremo vedere tante immagini tu hai condotto gli scavi sia al nuraghe cucurada sia al nuraghe sadomubeccia di uras quindi diciamo che le tue informazioni sono di prima mano tu tra l'altro hai fatto tantissimi scavi tu hai esperienza pluridecennale nel senso che non facciamo solo scavi e facciamo anche tutte le pratiche pratiche varie e comunque vi fanno lavorare io amo gli scavi questo sì sono c'ho molta malinconia di non poter andare più a fare gli scavi poi ne parliamo ne parliamo a questo mi fa piacere evidentemente ti ha lasciato un buon ricordo un bel ricordo degli scavi sì di tutti di tutti ascolta prima di mostrare le immagini a parte gli scavi appunto mi ha incuriosito con questa domanda che con questa affermazione che voi fate tante altre cose ad esempio che altri incarichi avete oltre allo scavo allora noi intanto abbiamo la direzione di un settore dell'ufficio io ho avuto il settore del catalogo ero direttore dell'ufficio del catalogo perciò avevamo schede di catalogazione a tanti studiosi laureati e queste schede erano importanti per loro perché erano sempre un momento per poter essere in contatto con l'archeologia perché sai benissimo che non tutti quelli che studiano archeologia poi possono fare gli archeologi cioè possono entrare o alla soprintendenza o all'università per cui hanno piacere comunque in tutti i casi perché hanno fatto quel corso di studi e perciò il catalogo poi è stata anche un'occasione per conoscere tante persone poi inserirle appunto nei cantieri di scavo e poi ognuno di noi ha un territorio fino al 93 noi non avevamo io non avevo un territorio perciò si andava dove dove si veniva mandati e per me tu hai partecipato anche agli scavi degli anni 70 a monte prama con carlo tronchetti con mi ricordo nel 70 con carlo tronchetti certo che sono le fotografie dello scavo mi sono capitata delle fotografie dello scavo e quindi c'eri sempre tu giovanissima bellina che ho iniziato ho iniziato e finito a monte prama perché poi ho scavato anche nel 2014 mi ha dato questa opportunità di fare monte prama però con momo zucca erano con gli scavi momo zucca era era codiretto lo scavo di monte prama aveva una codirezione per il mio ufficio c'ero io alessandro usai c'era momo poi c'era paolo bernardini c'era 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 gaitano ranieri insomma eravamo molti direttori ebbe un bello staff accidenti e per quello che insomma è un lavoro di gruppo come anche stati per questi per questi scavi di cui parliamo stasera cioè non è che ho scavato io cioè certo la soprintendenza alla direzione scientifica dello scavo e in altri tempi poi ci si poteva anche avere la codirezione e io per mogolo per esempio ho avuto l'onore di dividere la direzione scientifica con professore azzeni e ho avuto un piacere grandissimo di conoscere due archeologi bravissimi perché allora erano appena laureati parlo di riccardo ciccilloni che è entrato nel 95 di giuseppina ragucci che è entrata nel 94 poi riccardo poi ora è un docente universitario è anche un modo un modo bello di fare amicizia di conoscere tante persone riccardo so che ci segue lo salutiamo lui in questa rassegna partecipa sempre a queste a queste dirette vediamo di coinvolgono a cavallano tanto le dirette che a luigi con lui sì con lui con riccardo è seguito proprio gli scavi di proprio di di mogoro di cucurada o perlomeno so che lui ha scavato a cucurada che era giovanissimo era giovanissimo riccardo diciamo che ed erano bravissimi sia lui anche se avevano poca esperienza erano bravissimi sia giuseppina ragucci che riccardo perché in effetti chi ha la direzione scientifica da delle indicazioni a una responsabilità però chi in effetti lavora dalle sette e mezza di mattina sono sono coloro che conducono la direzione sul terreno perciò hanno condotto la direzione sul terreno anche con in maniera anche autonoma sempre rispettosa delle indicazioni però con grandi capacità perché sono molto bravi sono molto bravi va bene mina ascolta ho visto che siamo già tanti siamo abbondantemente sopra i cento che ci stanno seguendo quindi direi che possiamo iniziare il nostro la nostra passeggiata per siti archeologici io vado a condividere lo schermo così allora avanti come vuoi e poi vediamo allora facciamo così mi devi dire se se vedi tutto io vedo c'è il mio nome merenziano usai molto bene allora possiamo e mina si e merenziano sai che mi hanno detto ma e merenziano ed in mina sono la stessa persona mi hanno detto sì sì certo sono la stessa persona va bene allora c'è neanche un'altra merenziano usai e non sono sì 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 allora andiamo avanti in questa passeggiata per mese a cucurada siamo nella sardegna centro occidentale siamo nella marmilla nella marmilla e nella marmilla che era un terreno un territorio quello di mogoro molto importante già importante nell'età antica fu infatti antropizzato fin dalla fin dal neolitico fin dal neolitico perciò in questo sito di cucurada di cui appunto parleremo c'è c'è un sito frequentato per tanto tempo dal periodo neolitico fino all'età medievale perché questo perché siamo nella marmilla siamo siamo in un in un posto particolarmente fertile perciò la fertilità dei campi del campidano sono stati un motivo di attrazione già per le genti neolitiche poi c'è una ricca fauna nella negli altopiani poi c'è la vicinanza con col rio mogoro e poi è un punto un punto importante per la penetrazione nelle nelle zone interne e perciò questo è un posto molto particolare ricordiamo ancora che poi ci troviamo anche vicini al monte arci il monte dell'ossidiana il monte arci un vetro vulcanico chiamato l'oro dell'antichità insomma sappiamo l'importanza avevamo fatti i primi strumenti in ossidiana insomma molto importanti e poi il territorio di mogoro fu popolato moltissimo in tutte in tutte le età specialmente nell'età anche nuragica abbiamo moltissimi nuraghi che sono stati anche studiati in pubblicazioni e anche giuseppina ragucci aveva fatto la sua tesi di specializzazione appunto sul 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 nuraghi sull'insediamento appunto di cucurada e poi abbiamo moltissimi ma abbiamo vicino il villaggio di puisteris importantissimo poi noi nel avevamo fatto anche con riccardo cicilloni un intervento a serraneula nella 131 perciò ancora rinverimenti però noi dobbiamo parlare del nuraghe perciò andiamo avanti e lo vediamo subito qui nuraghe cucurada innanzitutto innanzitutto è facilmente raggiungibile anche questo è una cosa di grande di grande importanza perché se noi se noi andiamo sulla 131 al chilometro 62 giriamo a destra e dopo due chilometri dopo secondo tornante entriamo 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 nell'area archeologica di cucurada l'area archeologica di cucurada che cos'è adesso adesso è un parco è un parco archeologico vero e proprio tra l'altro è avuto la fortuna di di essere aperto al pubblico nel 2013 è stato aperto al pubblico poverino invece domubeccia dispiacerà giovanni boassa non ha avuto la stessa fortuna e comunque sono appunto dopo vedremo anche domubeccia sono ugualmente due nuraghi bellissimi e molto particolari anche nella nella struttura e perciò noi ci troviamo a cucurada vediamo che vediamo che c'è che ora c'è un book shop servizi informativi c'è tutto insomma c'è il bar c'è la sala per didattica per i laboratori eccetera e allora perché dicevo che un parco archeologico perché è una è un'area archeologica frequentata già dal periodo neolitico e poi abbiamo delle importanti delle importanti altre manifestazioni del periodo delle neolitico evoluto monte claro perché al numero uno io non ci vedo neanche niente senza occhiali allora numero uno abbiamo appunto il nuraghe polirobatto che è il nuraghe di immogoro è un nuraghe misto un nuraghe speciale un nuraghe particolare e poi abbiamo a destra a destra della parte sud ovest del nuraghe a 15 metri appena una una muraglia una un tratto di una muraglia semicircolare che si pensava anche che potesse essere parte di un antimurale invece come si può vedere rivolto verso 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 l'altopiano perciò è una muraglia precedente e precedente e alla al al nuraghe precedente al nuraghe che poi l'oggetto di questo di questo argomento però è precedente duraghe ed è di periodo o monte claro noi abbiamo non abbiamo fondamentalmente ci siamo rivolti a a scavare il nuraghe perciò qui è stato fatto solo qualche sono state fatte solo pochi saggi e comunque la struttura sia sia del nuraghe sia della della buraglia sia dell'altra struttura che si vedeva nell'altra immagine il cucurada a che anche questo è un che di anche questo è del periodo del neolitico voluto appunto sono sono appunto ad ovest a sud ovest e a sud del del nuraghe complesso questa si trova una settantina di metri e allora dicevamo che l'aria fu frequentata in vari periodi riccardo ciccilloni ha fatto uno studio ha diviso l'ha diviso appunto le fasi di frequentazione del sito è la prima fase e la prima fase è proprio quella del 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 neolitico è la fase neolitico delle della frequentazione di età di età neolitica di cultura di cultura uzzieri e noi che cosa abbiamo cosa vediamo qui vediamo anche rappresentati alcuni materiali della cultura uzzieri vediamo delle punte di freccia poi noi archeologi distinguiamo secondo ritocco secondo la forma se partengono una cultura un'altra poi vediamo materiali materiali indicatori di quella cultura qui vediamo appunto un materiale anche in ceramica perciò però noi abbiamo trovato solo materiali in superficie però questi sono importanti perché appunto ci testimoniano una frequentazione nell'età neolitica però abbiamo una frequentazione come dicevamo prima anche nell'età neolitica e anche nell'età neolitica e infatti abbiamo abbiamo come avevo detto prima sia la muraglia sia la muraglia sia la muraglia semicircolare che sta a sud ovest dell'uraghe sia il cucurada sia sia il cucurada a che che anche esso è riportabile a Monteclaro noi ci basiamo soprattutto sulla non avendo fatto degli scavi veri e propri abbiamo trovato comunque qualche framento specialmente nella nella muraglia semicircolare Monteclaro come si può vedere anche qui nell'immagine vedete anche qualche materiale Monteclaro sapete che il materiale Monteclaro prende il nome dal luogo dove fu trovato per la prima volta perciò la collina di Monteclaro e ha questa decorazione a scalalature certe volte appunto anche decorate con la con la stecca che le fa sembrare dipinte ed è molto e sono molto importanti comunque queste fasi però poi noi cosa facciamo ecco questa appunto è la è parte della muraglia megalittica di cui appunto dicevamo abbiamo dei confronti soprattutto sulle strutture per esempio a Monte Baranta di Olmedo cioè abbiamo confronti come fanno gli archeologi si basano appunto sui dati materiali su quello che trovano nei rinvenimenti e poi dopo che fanno lo scavo inizia proprio lo scavo nello studio vero e proprio perciò il confronto con gli altri con le altre con le altre culture con vedere dove sono state si trovato questo tipo di ceramiche e questo tipo di manufatti e questo tipo anche di architetture però invece il nuraghe cocurata è un nuraghe molto molto particolare diciamo che è un nuraghe molto particolare appunto come dicevo è un nuraghe speciale un nuraghe un nuraghe voluto e che si impermia su un precedente edificio a corridoio protonuraghe un nuraghe arcaico adesso non discutiamo molto su questo ho visto che l'ultima volta comunque stavate discutendo anche un modo come si diceva se si diceva stavamo discutendo in modo acceso stavamo discutendo in modo acceso sul termine da dare ai nuraghi a corridoio perché i corridoi ce li hanno anche i nuraghi a tolos sono addirittura protonuraghi comunque sono antecedenti ai nuraghi a tolos ai nuraghi più evoluti e siamo nel bronzo medio siamo nel bronzo medio perciò insomma 1905 avanti cristo e perciò c'è stato questo primitivo edificio a corridoio che poi qui lo vedremo meglio negli altri negli altri immagini che si trova che si trova si può entrare nelle nelle nuraghe a corridoio entrando nel nuraghe di cucurata b chiamato cucurata b dall'ingresso al nuraghe che si trova nella cortina eh sud orientale noi entriamo nel corridoio sulla destra troviamo l'ingresso dal cortile al nuraghe a corridoi e infatti questo comunque ha due a due corridoi ha una e il nuraghe a corridoi ha una forse abbiamo delle immagini dopo però adesso non so se mi sto soffermando diciamo che stiamo parlando di F1 ed F2 questo è il corridoio originale le due le due celle che stanno ai lati del del corridoio più lungo del nuraghe a corridoi poi abbiamo un altro che invece poi è rifasciato e comunque questo è stato il primo edificio poi lo rivedremo meglio il primo edificio a corridoi su questo poi fu 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 nel bronzo recente nel bronzo recente e siamo intorno al mille trecentocinquanta mille centocinquanta e così nel bronzo recente abbiamo il bastione fu fatto il bastione con quattro torri con quattro torri che appunto si affacciano al al cortile e poi le torri hanno parte alcune hanno sono anche rifasciate per una questione di contenimento e poi abbiamo abbiamo appunto l'ingresso dal cortile a queste torri e se noi vogliamo salire non so adesso non mi ricordo negli altri immagini ma noi siamo entrate già ma poi ritorniamo nel nuraghe a corridoi poi a destra del cortile sullo sfondo abbiamo l'ingresso per andare alla torre A quella in alto quella in alto la torre A quella che dopo aver stata fatta anche la rotazione a C14 i materiali dello stipetto di una cella e sulla destra abbiamo una cella H e poi andiamo nella parte superiore del nuraghe se ci fanno andare perché chi ci accompagna a certe volte se noi andiamo a Culturada ci accompagna ora la guida una guida abbiamo Paolo Pinna e poi un altro architetto che hanno la gestione in questo momento dell'area archeologica che prima era della memoria storica e lo seguiva anche Sandrina Carta che è una ragazza di Mogoro che è un'archeologa di Mogoro e che lei aveva studiato anche fatto studi su nuraghe in Apruna di Mogoro che è un altro nuraghe molto importante e anche lì con materiali Monteclaro che a quei tempi erano stati ritenuti duragici però ecco allora qui cosa abbiamo visto qui cosa vediamo l'ingresso 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 al cortile l'ingresso al cortile l'ingresso al cortile entriamo avevo detto che entrando entriamo c'è il corridoio c'è il nuraghe a corridoio e poi andando in alto prima abbiamo tre rampe di scale che ci portano alla torre A e poi dalla torre A come ho visto che è scritto anche nel post dalla torre A noi possiamo vedere bene dove è ubicato il nuraghe di Mogoro siamo nel ciglio meridionale dell'altopiano di Sastruvina perciò sulla sinistra andando verso Cagliari vediamo appunto l'altopiano di Perdiana il Sastruvina vediamo il villaggio l'insediamento l'insediamento beh adesso vedi che io sono anziana l'insediamento scavato dove Giovanni Boas andava a scorrazzare con Cornelio Pugeddu che è stato uno degli archeologi che ha maggiormente voluto che lo scavo a Cucurada venisse fatto sia Cornelio Pugeddu che aveva fatto anche la tesi di catalogo sul territorio di Mogoro e sull'area circostante aveva fatto c'è quel bellissimo libro Diocesi di Ale, Zusei, Lusei Terrarba dove ci sono tanti dati importanti su questo territorio Ascolta Emina, qui nel nuraghe Cucurada c'è un cortile molto interessante perché è uno dei pochi che all'interno, il cortile è molto grande diciamo e all'interno ci sono varie strutture all'interno ci sono capanne all'interno ci sono capanne perché dicevo che nel bronzo recente nel bronzo recente quando ci fu la ristrutturazione del nuraghe quando al nuraghe primitivo a corridoi fu inglobato, furono costruite le quattro torri del bastione fu costruito anche un villaggio che noi troviamo sia all'interno del cortile sia fuori davanti all'ingresso principale un villaggio nuragico sempre del bronzo recente, un villaggio nuragico che in parte noi avevamo fatto un saggio nel villaggio all'esterno e abbiamo visto che appunto insisteva su un precedente insediamento Monteclaro. Sì, quindi era relativo alla muraglia appunto che si affaccia proprio dal bastione. Questo invece quello che noi vediamo all'interno del cortile e fuori è un villaggio nuragico che fu costruito quando ci fu la ristrutturazione nel bronzo recente. Ecco qui si vede meglio il nuraghe a corridoi perché non so se con questa frequentazione del periodo arcaico del bronzo medio nuraghe arcaico qui è scritto arcaico, il nuraghe a corridoio, il nuraghe arcaico. Allora come dicevo entriamo dal cortile e vediamo che ha uno schema transetto il nuraghe arcaico. Appunto abbiamo F1 e F2 che sono le due celle che hanno una copertura diciamo un po' a tolos, mentre il lungo corridoio è piattabandato. Invece su questo lato invece è chiuso poi dal rifascio del nuraghe. Perciò su questo edificio avevo detto che appunto c'è su questo edificio poi viene fatto il nuraghe. Poi ecco, stavo dicendo prima che nel cortile, nella parte verso nord, verso ovest, si entra e si sale, da un corridoio si sale nella scala a tre rampe. Sulla destra abbiamo la cella H che anche lì avevamo trovato dei materiali anche in Monteclaro a testimoniare appunto l'occupazione prima dell'aria. E poi queste tre rampe di scale con un pianerotto ci portano alla torre A dove dicevo che sono state fatte delle analisi dal C14 proprio per un'adattazione più precisa e tutte queste cose tra l'altro sono state realizzate quando Riccardo Cicilloni, se non ricordo male, ha curato un lavoro ricerche archeologiche a Cucurada dove abbiamo scritto tutti quanti e dove ha fatto fare anche degli analisi, degli studi ambientali perché l'archeologia ora deve essere sempre più affiancata da queste scienze sussidiarie che ci danno un grosso aiuto. Noi prima facevamo tutto noi, facevamo i disegni, le fotografie, lo studio ambientale, lo studio di tutto, però tutte le cose devono essere fatte da professionisti perciò avere queste scienze sussidiarie ha dato un grande aiuto agli studi di archeologia, studi di archeozoologia, di archeobotanica. Ricordiamo anche che per esempio all'Expo, all'Expo a Milano, si è presentato anche uno studio appunto sui resti faunistici che è stato molto molto importante. Eh sì, perché ci danno questi studi interdisciplinari la possibilità anche di capire quali erano gli animali nei vari periodi, qual era la vegetazione nei vari periodi. Certo, certo, sono molto importanti per tante cose, ora non se ne può fare a meno, ecco, noi dove siamo adesso siamo proprio nella sommità, nella torre, sì, sopra la torre A. E come dicevo, chi sale sulla torre perché, come dicevo, magari se ci sono bambini, se è un po' pericoloso, anche se è aperto al pubblico, c'è un percorso da seguire, come vedete ci sono state messe anche delle passerelle in legno, per cui noi però saliamo e dalla torre A vediamo un panorama bellissimo perché sulla destra lo sguardo va fino a Tarros, fino al Monte Arquento, tutta la Costa Verde e invece a sinistra, come dicevo, c'è il villaggio di Puisteri, queste cose. Allora, poi c'è questa che è qui indicata, questa che è qui indicata è la torre C, è la torre C, una delle torri e qui ha un ingresso sopraelevato, un ingresso sopraelevato e noi avevamo fatto un piccolo saggio nella torre C, però i risultati più importanti, diciamo più significativi sono stati dati dalla torre D, che è questa di giù, non so se ci sono le altre immagini, così la possiamo vedere. Ascolta, Emina, ti fermo un attimo, perché io l'ultima volta che sono andato a visitare il Cucurada con le guide, c'era Paolo, c'era anche l'altra guida, mi sono soffermato su questa porticina fatta, non so, con questa tecnica fatta a dolmen, che si distingue molto dagli altri due che sono ogivali con finestrella, vedi? Sì, e qui c'è anche una specie di pozzo. Sì, ecco. Sembrava un ripostiglio, appunto. Volevo chiederti che cosa avete trovato qua. Eh, non abbiamo, non ci siamo, non abbiamo fatto, non abbiamo scavato, non siamo arrivati fino ai livelli più bassi di questa zona. Siamo fondamentalmente nello scavo, dobbiamo fare anche delle scelte, certe volte. Eh, meglio, meglio, Emina, vuol dire che ci sarà da scavare. Certo, c'è da scavare ancora Cucurada, come no? Poi noi, l'ultimo anno, l'ultimo anno, nel 2012, perché noi abbiamo fatto 12 cantieri di scavo, nel 2012, all'ultimo cantiere, noi abbiamo scavato, abbiamo, volevamo scavare la Torre Nord, che comunque era molto, molto pericoloso la Torre Nord. Il professore Azzeni voleva anche entrare nella Torre Nord, che poi non è stata scavata. È stato anche tutto messo in sicurezza, perché ai cantieri di scavo veri e proprio si sono affiancati anche i cantieri di restauro, di messa in sicurezza. Perché tu immaginati, da principio, non so se c'è qualche immagine, c'era un grandissimo crollo. Noi abbiamo, da principio, eliminato i crolli e anche lo scavo dei crolli deve essere fatto con un certo criterio. Ascolta, Emina. E il professore diceva, il professore Azzeni, a proposito del fatto che non è finito lo scavo, il professore Azzeni mi diceva, signorina, noi dobbiamo continuare lo scavo di Cucurada, quando ha compiuto 90 anni, e diceva, il professore, intanto però lo scavo non è continuato. Ascolta, Emina, ti fermo un attimino. Allora, giusto per fare un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto finora, diciamo che il Cucurada è nato intorno al diciassettesimo, sedicesimo secolo avanti Cristo come torre a corridoio, come, scusa, nuraghe arcaico, nuraghe a corridoio. Poi, la torre A e la torre B sono invece del bronzo recente. Il bronzo recente, sì, sì. Ok, perché me l'hanno chiesto come domanda, me l'hanno chiesto appunto di precisare. Il bronzo medio si può inquadrare intorno al 1909-1350 avanti Cristo. Invece il bronzo recente siamo dal 1350 al 1150 avanti Cristo. Perfetto. Queste sono datazioni. Perfetto. Perfetto. Intorno al bronzo recente c'è tutta questa ristrutturazione, appunto anche col villaggio, oltre che col bastione quadrilobato. E queste sono cose del bronzo recente. Anche se poi, lo vedremo, il nuraghe fu riutilizzato anche nel bronzo finale, nella prima età del ferro, e poi anche in età punica romana, anche medievale. Vedremo meglio dopo. Perfetto. Qui vediamo, scusami Emina, anche qua intervengo un attimo, perché io questa immagine non la ricordavo, e c'è un dettaglio importantissimo. Allora, siamo all'interno della torre D. Allora, la porta vista dall'esterno, vediamo che ha l'architrave, la finestrella, ed è, diciamo, una classica porta di bronzo recente. Invece, vista dall'interno, ha un'ogiva perfetta, non c'è l'architrave, e quindi avevano già acquisito la tecnica perfetta dell'ogiva qui. Beh, sì. Molto bella. Il nuraghe è costruito in basalto con pietre più o meno sbozzate, disposte, come si sa, a creare una falsa cupola di forma troncoconica. Qui sono crollate le parti sommitali, anche nella torre D, che è abbastanza ben conservata, però, e poi, dicevo, ecco, per quanto la tecnica, si vedono delle piccole pietre di rincalzo, perché le pietre, sì, non sono perfettamente a secco, perché si vanno sempre degradando per creare la falsa cupola, però, per reggersi, hanno bisogno anche del rinforzo di piccole pietre. Sì, sono due parti. Pietre che si chiamano, infatti, pietre di rincalzo. Ecco, questo che noi vediamo qui nella torre D è un focolare. Diciamo che ci sono stati tre focolari, c'erano delle varie fasi di frequentazione, anche di questa torre, che è stata molto importante. Perché è stata molto importante? Perché poi è stato trovato anche bronzetto. Ma noi, archeologi, non è che siamo contenti quando troviamo oggetti bellissimi, ma per noi, come si dice sempre, sono importanti anche piccoli frammenti, perché ci fanno capire che siamo nel bronzo medio, nel bronzo recente, che se li colleghiamo a delle determinate cose, però qui abbiamo trovato appunto un bronzetto. Abbiamo visto che ci sono anche delle varie fasi di frequentazione della torre D e nella parte più in alto, che abbiamo in base anche qui, è stata fatta appunto grazie a questi studi recenti che sono stati fatti analisi al C14 e sappiamo appunto che si può riportare al bronzo finale età del ferro. Diciamo che il bronzetto, in base alle datazioni al C14 che è stato possibile fare, siamo già in un'età del ferro e poi lo vediamo anche dal tipo di bronzetto. Di scena rappresentata. Di scena rappresentata, certo. È una caccia sacra, certo. Questo è un bronzetto molto particolare comunque, è un bottone, è un bottone, c'è una barra dove doveva essere, perché il bottone doveva essere, io avevo supposto che potesse essere anche sulla spalla, teneva magari un manto di una persona importante nella società perché si è supposto che magari nell'età del ferro, anche perché poi nella torre D vediamo alla base un bancone, una specie di bancone, perciò una somiglianza molto con le capanne delle riunioni, con le capanne dove appunto si riunivano i notabili per decidere delle cose importanti. Perciò io me lo sono quasi immaginato, noi l'avevamo anche presentato alla mostra al Mediterraneo di Eraclès, perciò già il mito, abbiamo pensato che ci potesse essere anche un lato sacrale nell'età del ferro. Un riutilizzo, come capita in altri ruraghi, un riutilizzo nella prima età del ferro. I muraghi non sono luoghi di culto, perché poi vedremo che invece vengono riutilizzati a scolpo di culto, però il culto è sempre stato importante, dal periodo neolitico è sempre stato importante, fondamentalmente noi lo vedremo, cosa abbiamo trovato nel muraghe? Materiali di consumo, ciotole, olle, venivano abitati, però avendo trovato il bronzetto lì e i dati stratigrafici, ci hanno fatto anche pensare che potesse essere rivolto a un certo punto la torre D a delle cerimonie particolari. E questo è molto importante, il bronzetto è molto bello, lo rappresenta un cacciatore, un cacciatore che con una lancia trafigge da dietro un mufflone, si pensa che sia un mufflone, ed è azzannato al collo da un cane, è azzannato al collo da un cane. E poi la caccia, noi sappiamo che la caccia era molto importante, e noi cosa sappiamo? Che sappiamo che c'era l'agricoltura, la caccia, la pesca, e in periodo nuragico è un popolo anche di cacciatori, di allevatori, in modo di tutto questo. Io questa settimana ho scritto un articolo proprio sulla caccia sacra, dove ho ipotizzato che non, cioè che appunto essendo questo bronzetto della prima età del ferro, poteva anche simboleggiare una caccia sacra, ossia il confronto quasi alla pari dell'uomo con la natura. Come ci dice la tradizione degli antichi greci, che ci raccontano queste storie, noi abbiamo i bronzelli, loro hanno le storielle, noi abbiamo i bronzelli. Diciamo che noi ci dobbiamo molto attenere, noi archeologi di soprintendenza, archeologi professionisti, diciamo così, ci dobbiamo basare su quello che troviamo, sullo scavo. Se lo scavo non ci dice tante cose, noi non ce le possiamo inventare, però è anche vero che se non si pensa, se non si fanno delle ipotesi, sempre basate su qualche dato, poi dopo la scienza non va avanti, poi non è una scienza esatta, l'archeologia come tutte le altre scienze, anche la medicina non è una scienza esatta, da qui non muore di rischio. Però diciamo che, Emilia, io mi avvalgo sempre di ciò che ho studiato all'università, dove mi hanno insegnato che i dati vanno incrociati, quindi quando si trova un oggetto, bisogna incrociarlo anche con altre fonti, e quindi la letteratura greca ci viene molto incontro con tutto ciò che ci ha raccontato. Per questo il bronzeito è stato presentato proprio per una mostra che era il Mediterraneo di Eraclesse, per cui era proprio a Oristano, e a Oristano abbiamo presentato il bronzeito, mentre poi sempre a Oristano, nella mostra Insule Cristi, avevamo presentato il deposito votivo. E vedremo, dobbiamo anche correre, perché se no dopo... Sì, sì, vediamo un pochettino di materiali, così poi andiamo all'altro nuraghe. Ecco, cosa dicevo? Cosa dicevo? Che quello che noi abbiamo trovato fondamentalmente sono ceramiche nuragiche, olle, si riesce in certi casi anche a ricostruirle, olle, ciotole, scodelle, di uso alimentare fondamentalmente. Poi abbiamo lucerne, abbiamo anche queste anse decorate particolari, qua abbiamo un'ansa decorata con una... Questo è un'ansa decorata a pettine, e siamo appunto alla fine, siamo alla fine dell'età del bronzo, perché hai dicevo... Anche primo ferro, sì. Anche primo ferro, siamo appunto in un periodo particolare, proprio grazie appunto al rivenimento, soprattutto questi nella torre di... Poi abbiamo questi frammenti di alari, molto particolari, anche qui noi abbiamo tanti alari di età greca, molto particolari, questi sono nuragici, ma sai che gli alari, certe volte la parte dell'alare, la parte perché servivano appunto per il fuoco, eccetera, veniva forgiata, quasi decorativa una parte. Qui abbiamo frammenti, purtroppo, come spesso si ha. Del resto il nuraghe, noi abbiamo trovato degli strati abbastanza intatti, ricordiamoci che comunque anche a Cucurada, era stata vicina una cava, una cava grossa, e perciò anche per questo, perché non subisse appunto degli usi... degli usi... Come poi vedremo per il nuraghe di Uras. Anche da questo lo scavo, il professor Razzini, il professor Pugeddu, sono andati con le amministrazioni, la soprintendenza ha appunto avallato all'inizio di questo scavo, che comunque, grazie anche al fatto che era diretto, oltre che da me e da professor Razzini, è stato uno degli scavi più... che è durato tanti anni, e che ha dato buoni risultati, e che è stato anche aperto al pubblico alla fine, che non sempre si arriva a queste cose, anche se lo scavo non è finito neanche a Cucurada. Ascolta, le teste di mazza, che cosa ci dici Emina? Queste sono molto importanti. Sono importanti le teste di mazza, perché appunto anche queste sono come dei percussori, dei percussori antichi, e venivano in manicate, e venivano usate appunto per... come tipo anche di scalpelli, e perciò sono monumenti molto importanti. Poi abbiamo... qui abbiamo anche macine e pestelli. Proprio nella Torre D, una parte è stato fatto anche a dei semi, l'Ase A514, una parte della torre a un certo punto fu usata... abbiamo trovato delle macine, e perciò si è pensato fosse usata per appunto lo scopo della... macinatura appunto del grano. macinatura del grano, certo. Poi qui abbiamo dei pendali, dei pendali decorativi, è una rondella in pietra dura, poi ancora altri materiali. Questi soprattutto... Ecco, questa immagine stiamo per finire, perché se no... Ecco, questo è il focolare in epoca tardo-romana, questo è un ritrovamento interessantissimo. Questo è un ritrovamento interessantissimo per vari motivi, per vari motivi, e questo ci mostra perché, come dicevo prima, ci sono varie fasi appunto che sono state studiate tutte le fasi. L'inizio della costruzione appunto del bronzo medio, bronzo recente, bronzo finale, età del ferro, vari crolli, vari crolli e vari abbandoni. Il nuraghe fu abbandonato e poi fu riutilizzato, fu riutilizzato in età tardo-imperiale, a scopo votivo, perché noi nell'ingresso, dopo che era già stato, che era stato crollato, quello che si vede è diciamo un restauro dell'ingresso, noi abbiamo trovato un deposito votivo. se andiamo avanti forse si vedono anche la deposizione delle offerte di crani, di bovini, ovvi caprini, e poi abbiamo trovato anche degli oggetti, perciò è un deposito votivo, abbiamo trovato anche degli oggetti, non so se c'è qualche cosa, delle lucerne, delle lucerne, e poi anche degli spilloni. Le lucerne, per esempio, cosa possiamo dire di queste lucerne? Che in alcune vediamo il crismon, cioè il simbolo del cristianesimo, il crismon, e anche il candelabro a sette braccia, perciò c'erano dei culti sincretistici, pagani e cristiani insieme. E questo è stato molto importante, tra l'altro questo è stato riscontrato anche nel nuraghe santumiali di Pompu, che è stato scavato anche quello in quegli anni, all'inizio degli anni del 2000, e perciò si è trovato appunto il riutilizzo di questi nuraghi a scopo votivo. Poi abbiamo trovato queste capocchie, questi oggetti importanti di culto, e si è supposto anche un culto friggio a Sabazio, anche a Cerere, e poi è stato importante, perché questo fatto, queste cose che sono cose che rivestono anche una curiosità, una maggiore curiosità, sono state presentate in quaderni didattici, e anche nel sito web, in una cosa, in queste cose che sono state realizzate negli anni 2005, mi sembra, 2005-2006, quando c'è stato un progetto di valorizzazione proprio, già di valorizzazione dell'area di Cucurada. noi avevamo già fatto gli anni precedenti, unitamente allo scavo, uno scavo è stato rivolto tutto alla catalogazione, e anche all'archivio informatico, è una cosa molto importante, l'archivio informatico, perché poi per lo studio si ritrova tutto, e poi questi quaderni didattici, il sito web, un gioco interattivo, che a quei tempi erano quasi delle cose fatte all'inizio, tant'è vero che quando avevo presentato io al comune i risultati di questo scavo, era venuto anche il soprintendente allora professor Azena, che sapendo che si faceva questa conferenza, in occasione molto probabilmente della settimana della cultura, o di di queste cose, allora era voluto venire proprio perché era stato incuriosito da questo ed è stata una cosa importante perché adesso lo troviamo dappertutto, eravate stati dei pionieri. Abbiamo fatto questo e perciò questo è importante, poi davanti all'ingresso dell'Uraghe, davanti appunto a questo deposito votivo, si dovevano fare dei riti particolari e appunto si sono trovate ancora lucerne, si sono trovate anche uno strato di cenere che ha dimostrato appunto che ci dovevano essere stati fatti dei rituali, dei riti particolari. Andiamo, spostiamoci a Uras, a pochi chilometri da Cocorada. scriverlo questo Uras perché insomma adesso vediamo cosa ci dice Giovanni, allora lo scavo di Uras è uno scavo molto importante, io l'ho scavato a Uras solo dal 93 perché dal 93 avevo il territorio del Basso Listanese nella mia che dovevo seguire io e perciò Uras che era un Ura che è tanto amato anche dal soprintendente dal dottor Vincenzo Santoni che certe volte mi diceva vai a Mogolo e io dicevo ma se a Uras io voglio andare anche a Uras voglio vedere come vanno gli scavi e allora sono stati fatti i scavi nell'89-90 se non ricordo male già ai tempi di Giovanni Boassa che oltre i meriti che ha avuto anche il merito di mettere in evidenza di sollecitare lo scavo lo scavo proprio in quella che è chiamata la reggia la reggia di Domubeccia e del resto già Caramelli e il professor Lilliu l'avevano avvicinato a nuraghi importanti come l'osa di Abbasanta e il nuraghe di Barumini diciamo Emina che questo nuraghe è molto facilmente visitabile perché si trova nei pressi del cimitero di Uras è proprio a poche centri e due metri dal paese è a un chilometro dal paese un chilometro e mezzo dal paese e poi è attaccato alla 131 è attaccato alla 131 diciamo e questo è stato un bene o male perché quando si è fatta la 131 anche è stato un po' è stato è stato un po' devastato e già nel 59 ci fu uno scavo ci fu uno scavo in clandestino e difatti la professoressa Cerutti studiò per prima quei materiali recuperati da quello scavo clandestino poi c'è stata la mia collega Luizanna Osai che ha fatto lo studio per quel libro edito appunto accurato da Anatti i sardi dove ci sono tante schede di tanti monumenti e lei aveva fatto Uras e allora il nuraghe di Uras sembrava un nuraghe trirobatto perché ancora non si erano portati avanti gli scavi poi abbiamo messo questa immagine di Giovanni Boassa diciamo che questo queste immagini sono tratte dalle powerpoint che io Sara Floris e Massimo Casagrande abbiamo presentato al convegno di Serri i cui risultati sono stati anche editi l'anno scorso e l'abbiamo fatto un paio di anni fa perciò qui abbiamo messo anche la ricostruzione che aveva fatto Giovanni Boassa che aveva fatto un libro molto importante Uras Procevia del Capidano Giovanni è un appassionato di archeologia però secondo me è uno studioso più degli archivi delle guerre dei saraceni però lui sa tutto di Uras e perciò ci dice tutto lui comunque aveva già intuito e già dopo gli scavi curati poi nel 91 92 mi sembra gli scavi di Mogoro gli scavi di Uras curati anche da Ginetto Bacco da Paolo Serra si è visto già che il nuraghe era già più complesso non era più un nuraghe trilobato ma era costituito da più torri sì abbiamo queste altre due torri proprio che vanno ad affacciarsi sul cortile durante gli scavi del 2013 2014 poi abbiamo visto altro poi sappiamo anche che intorno al nuraghe nella parte diciamo sud sud ovest c'è il villaggio c'è il villaggio molto probabilmente relativo al nuraghe anche se proprio fra il nuraghe e il cimitero il nuraghe e il cimitero dall'altra parte della strada anche se aspetta un attimo scusa Emina Emina ti fermo ti fermo un attimino per dire che questa non è la 131 è la vecchia strada 131 questa è la ex Carlo Felice la 131 si trova adesso la nuova a circa un chilometro io quando ero piccolina facevo tutti i paesi facevo tutti i paesi io naturalmente facevamo fino agli anni 80 diciamo che funzionava così comunque sì questa è la strada qui c'è il cimitero e si vede il nuraghe e si vede il villaggio che si espande che si espande vastissimo vastissimo è vastissimo sono 155 capagne non è poco è uno dei villaggi più grossi che è stato fatto poi con gli scavi seguiti da Vincenzo Santoni da Gine Tobacco e da Paolo Serra si erano fatti anche scavi nel Mastio nell'attore centrale nei crudo e cosa si è trovato si è trovato fondamentalmente si vedeva che era sconvolto dal resto anche la Ceruti l'aveva visto e comunque sono stati trovati anche oggetti di età bizantina di un equipaggiamento militare bizantino si è pensato a delle sepoltune bizantine ma giustamente Massimo Casagrande ha detto ma non ci sono le ossa ma bisogna studiare meglio queste cose quando abbiamo pensato alla valorizzazione il fatto che in effetti molte cose di Uras non sono ancora state studiate e si pensa che prima bisogna fare lo studio e poi lo scavo prima il restauro e poi lo scavo però così non si aprono mai i siti questo scavo di Uras è preparato nello scavo del 2013 2014 che è questo che vediamo che tra l'altro è stato seguito sul terreno c'erano anche degli archeologi c'era un direttore della Puglia che erano degli archeologi anche questi ed è stato seguito perciò siamo stati fortunati perché anche è un tecnico un ingegnere e poi è stato seguito da Sara Floris Sara Floris che è un archeologa proprio di Uras e che aveva fatto anche con fatto con Momo Zucca relatore io con il relatore la tesina la tesi di specializzazione proprio su Uras e sui rapporti tra i sardi e i popoli vicino orientali no? perché sappiamo che ci sono molti rapporti tra i sardi e sono stati studiati da Paolo Bernardini e lei ha fatto una bellissima tesi di laurea su queste cose e ha seguito lei sul terreno lo scavo del 2013 2014 che è stato importante già questo scavo era uno scavo che aveva tre finalità la ricerca il restauro perché è stato fatto molto restauro ricerca e poi la valorizzazione si cercava già con questo con questo cantiere di avviare di mettere le premesse perché anche Uras come il manovolo potesse essere aperto al pubblico un po' una chimera perché poi ci vogliono sempre i soldi bisogna essere fortunati in tante cose perciò in questa campagna del 2013 2014 noi abbiamo scavato sia nel cortile sia nel mastio qua abbiamo delle immagini che ci fanno vedere la scala che si apre subito a destra del corridoio di accesso e che porta e che porta anche questa è composta da tre rampe di scale e ci porta e piani alti non ci sono più comunque la scala è stato fatto lo scavo è stato restaurato per cui è abbastanza stato messo in sicurezza poi noi abbiamo ritrovato anche un corridoio a destra invece del mastio un corridoio che collega tre grandi micchie a forma di croce tre grandi micchie tre grandi e perciò è stato molto importante questo anche perché anche Uras è molto originale prova a pochi confronti non so forse queste tre scale che conducono a piano superiore sono un unicum e adesso vedo anche guarda qua Emina scusa mi sto interrompendo ma devo un attimino richiamare perché non facciamo in tempo in questo corridoio si nota anche l'antichità di questo di questo nuraghe per il fatto che il corridoio è coperto con grandi lastre vedi sono quasi piatta bandate quindi significa che siamo di fronte a un nuraghe molto antico un nuraghe molto antico anche questo molto antico non c'è il nuraghe non c'è il nuraghe a corridoi tipico però anche questo ha avuto come molti nuraghe abbiamo prima la torre centrale poi c'è lo sviluppo delle torri diventa un nuraghe complesso e qui in effetti le tre torri poi noi abbiamo trovato sei di torri sei di torri unite da cortine e anzi la torre B è molto particolare perché la torre B addirittura molto probabilmente non abbiamo trovato lo sbocco in basso molto probabilmente si entrava dall'alto come nell'uraghe di San Pietro di Torres poi questo diambulatorio trovato nella cella ci ricorda molto il Santo Antine di Torralba ma non ci sono tanti confronti comunque almeno ha confronti con nuraghi bellissimi perciò insomma bisogna essere orgogliosi di questo tra l'altro il nuraghe Domubeccia ha un bellissimo antemurale purtroppo nell'antemurale sono rimaste si vedono solo quattro torri anche qui lo scavo non è finito si vedono quattro torri ma anche qui c'è l'impronta di sette torri perciò abbiamo sette torri anche nell'antemurale perciò un muraghe molto complesso poi quello che è stato importante anche nello scavo del 2013-14 è stato scavare nel cortile oltre l'ingresia a tutte le celle poi anche scavi sono tutte cose molto particolari ma comunque è stato scavato un pozzo che si è conservato bene perché era coperto da una ghiera che anche questo in pietre basaltiche per l'approvvigionamento e che era molto importante e molto bello noi abbiamo potuto iniziare appunto lo scavo e questo è una cosa importante ascolta l'avete trovata l'acqua in mina si si vedeva un po' l'acqua in fondo ma avete calato qualcuno dentro oppure vi siete sfidati insomma no no non abbiamo calato nessuno ora tu sai benissimo che ormai non si è più come in altri tempi dove io facevo andavo non so a fare dei sopralluoghi mi ricordo una volta che lo avevamo andato col fotografo nella zona di Usellus ed era pericolosissimo entrare in questi muraghi già ci poteva accadere una cosa però noi noi lo facevamo io ricordo anche che tu hai scavato a Morgongiori quindi a Morgongiori ma dico comunque quando io scavo l'ultimo anno che abbiamo scavato a Ponco anche quello è un cantiere bellissimo che hanno ripreso però è stato fatto l'anno scorso un cantiere mi ha chiamato Massimo Casagrande per farmelo sapere so che Valentina Marras che aveva scavato appunto con me è andata a vedere lo scavo io non sono potuta andare comunque lì quando dovevamo scavare davanti all'ingresso non era per niente pericoloso poi anche lì avevamo trovato un'area dove forse si dovevano fare dei diritti perciò era molto importante vedere questi confronti con Nuraghe di Mogoro era molto importante io ho detto adesso facciamo questo ho detto guardi dottoressa responsabile della sicurezza non vuole che ci avviciniamo e non era per niente pericoloso per cui insomma ci sono sempre problemi ora sempre di più però questo lo sai che alla fine la responsabilità ricade sul comune e sulla soprintendenza per cui c'è anche volte lo so bene lo so bene i funzionari di soprintendenti diventano cattivi però perché loro devono tutelare la sicurezza perché poi ne risolvono loro io credo che tu vai adesso in sinistra e riesci con la tua amabilità il tuo modo di fare di rassicurare che tutto andrà bene in effetti ho visto che segui sempre le cose io mi occupo sì 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 mi preoccupo sempre della sicurezza delle persone che portano i siti ascolta approfitto di questa bellissima immagine questa bellissima immagine di Bibi Pinna perché si notano nella torre si notano le tre scale che partono vedi e conducono tutte a un unico piano quindi mi viene da pensare quindi i bastioni sono raggiungibili solo attraverso queste tre scale perché tre ci avete pensato noi non abbiamo più la tolos doveva avere almeno un'altra 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 cella superiore perché noi nei nuraghi che cosa troviamo troviamo quasi sempre solo la 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 cella inferiore perché crollano perché non ci sono più però sappiamo questo è stato è stato smontato certo è un muraghi che doveva essere almeno dieci metri più alto sì certo poi qui vediamo vedi che si vede alla base della cella è stato trovato anche qui una 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 specie di sedile che si trova appunto vicino anche alle micchie è molto molto bello una parte di un sedile e poi un focolare anche qui una parte di un focolare perciò anche questo è importante perché anche in questo nuraghi a un certo punto in questa immagine si vede meglio si vede meglio parte di questo bancone dove forse si potevano riunire vedere sembra quasi una sala per le assemblee però ci sono degli scalini qua in mina quindi per andare nella sala si doveva scendere ma non è che ci sia qualcosa sotto il pavimento questi sono stati scavati che per prima non si vedevano e questo è stato è stato fatto con lo scavo no prima non si vedevano li abbiamo messi in luce con lo scavo del 2013 2014 e poi si vede l'ingresso proprio alla scala e poi il diambulatorio che si vede proprio lì perciò insomma come si può vedere ecco qui sei tu sei tu ho messo la mia immagine non tanto perché mi piace figurare nei siti quanto per far capire le dimensioni della muratura perché qui ci sono delle nicchie che sono alte quasi 4 metri sì sono nicchie bellissime alte e poi sono 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 bella i massi sono disposti in maniera regolare ecco sono messi in maniera regolare perché la tecnica edilizia qui è una tecnica poliedrica non è non è una tecnica isodo ma noi vediamo vediamo poi in effetti sono state fatte anche il restauro è stato fatto il restauro di molte parti con questo ultimo cantiere è stato fatto molto molte operazioni di restauro sia strutturali sia restauro delle delle murature vere e proprie perciò sia per la messa in sicurezza sia per il restauro e qui vediamo Rita lo stesso è bella sono molto belle queste immagini che hai fatto e che rendono bene la la dimensione la maestosità la maestosità delle 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 muraghe e poi ecco questo che noi vediamo invece è il pozzo vedi che io ne parlavo prima il pozzo il pozzo nel cortile che abbiamo trovato la ghiera poi la profondità del pozzo abbiamo trovato anche parte di una muratura abbiamo trovato anche parte di 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 altre però lo scavo non è ultimato non è ultimato come tutti gli scavi poi devono finire poi non ci sono soldi e non continuano però è stata una soddisfazione per questo scavo quello di cercare di inserirlo subito visto che tra i progetti dello scavo c'era una primitiva illuminazione del monumento che è molto importante mi sono dimenticata di dire che a Cucurada è stata fatta l'illuminazione che passa sulla 131 di notte vede il muraghe Cucurada illuminato ed è bellissimo e poi ecco anche qui a Uras è stata fatta una l'illuminazione perché c'era proprio un desiderio di creare di mettere le premesse per una prima valorizzazione di fatti si è stata fatta anche una casetta di appoggio che sta proprio all'ingresso vicino a quella strada di cui abbiamo parlato una sorta di biglietteria una sorta di biglietteria non è grandissima però intanto lì poteva esserci un bookshop una persona poteva stare lì poi abbiamo fatto alcuni pannelli e quando ci sono state la giornata dell'archeologia monumenti aperti il sito è stato molto visitato diciamo che è pronto sarebbe pronto la fruizione qua sarà l'amministrazione in collegamento con la soprintendenza che dovranno occuparsi appunto della della fruibilità di questo muraghe che quando abbiamo fatto il lavoro dovevamo presentarlo io e Sara Floris io non ero neanche più un ufficio ero uscita perciò il funzionario che in quel periodo seguiva seguiva Uras era Massimo Casagrande che è un bravissimo archeologo un caro amico e poi cambiano adesso stanno una persona ciao io so che adesso non c'era più Massimo ce lo deve avere qualche altro funzionario comunque Massimo avevo coinvolto proprio perché magari al convegno potesse avallare la prima valorizzazione e invece lui stesso vedendo anche che è stato pubblicato finora poco e che lo scavo non è concluso dice aspettiamo però ascolta che cos'è che cos'è questa un'olla questo un bacile è un'olla è un'olla che è stata trovata in una parte delle cortile ah ecco sì nella parte di una muratura delle cortile e poi e poi vedi anche qui ci sono una serie di materiali che sono stati trovati a partire dai primi materiali del bronzo medio che aveva pubblicato come dicevo prima la professoressa Maria Luisa Ferrarese Ceruti a questi materiali che fanno parte anche del del lavoro bellissimo che ha fatto Sara Floris nella sua tesina di spiegazione dove cioè anch'io ho visto i materiali e poi l'ha seguita molto ha fatto ha chiesto anche a Salvatore Sevis che è un grande esperto di ceramica di ceramica anuragica vedete sono piccoli pezzi però si vede appunto eh le le che già dai pezzi ci rendiamo conto della delle delle varie fasi dell'importanza di di questo luogo anche per i materiali che si ritrovano sì chiaramente saranno sarà da portare avanti portare avanti gli studi però come dicevo prima eh come dicevo prima eh sì c'è un po' di speranza però per aprire questi siti archeologici eh la soprintendenza la soprintendenza al ministero perché poi le soprintendenze sono uffici periferici del ministero e perciò le le linee guida le dà il ministero che dà degli ordini e cosa dice il comune deve presentare un piano di gestione ben articolato siccome noi non abbiamo soldi deve avere i soldi deve avere i soldi fare un piano di gestione dire che lo può aprire e che per che negli anni le persone che verranno assunte vengono possono essere pagate assicurare che avvenga tutto questo però ecco io avevo anche suggerito anche di di aprirlo magari una due volte alla settimana per non essere troppo per non pesare troppo perché alla fine anche i comuni hanno tante cose da realizzare però però realizzare queste cose e valorizzare questi siti archeologici è importante non solo perché sono un bene da tutelare in assoluto perché sono anche una fonte economica perché poi vanno i turisti e pagano un biglietto perché vengono assunte assunte delle persone ma c'è tutto l'indotto perché chi vuole andare a visitarli li può inserire in un percorso quindi i luoghi di gastronomia gli hotel certo un giorno anche un biglietto unico Mogoro e Uras Mogoro e Uras un biglietto unico per due giorni la settimana certo e poi lì vicino c'è anche Monte Arci quindi il museo dell'Ossidiana il sito di Villa Verde certo si può fare tantissime cose anche i trasporti dovrebbero essere coinvolti ricordiamoci che poi abbiamo anche vicino abbiamo San Nicolò Cidano abbiamo poi Aura stesso abbiamo dei nuraghi molto belli nuraghi maringiano ricordiamoci che sono due belle tombe di giganti c'è una persona poi vede qualcosa nel territorio viene viene stimolato anche a studiare a vedere a vedere meglio e poi si fa anche in fretta insomma anche se è una persona ma il fatto il fatto che noi ne stiamo parlando Emina serve proprio per non solo divulgare la vostra conoscenza voi archeologi che state partecipando a queste conferenze ma anche proprio per incuriosire tutti gli appassionati che spingono voi a proseguire con la ricerca insomma spingono anche le amministrazioni locali per fargli scoprire il territorio valorizzarlo la convenzione di Faro io mi rifaccio sempre alla convenzione di Faro che è una una sono state fatte una serie di suggerimenti di leggi dove si dice che un sito per essere considerato bene archeologico deve essere anche fruito quindi messo nelle condizioni di essere fruito la convenzione di Faro bisogna farla applicare a tutte le amministrazioni della Sardegna sarebbe bellissimo però però tante volte tante volte allora lo Stato non ha soldi si è sempre lavorato con soldi della regione della provincia del comune stesso perciò sai certe volte certe volte la difficoltà di reperire di reperire soldi magari bisognerebbe fare delle leggi ad hoc io noto che i comuni tanto più sono grandi magari meno ci tengono invece i piccoli comuni certe volte ci tengono di più è il loro biglietto da visita lo stesso quando ero a Pompu il primo anno che Pompu è un muraghe bellissimo vedevo che la scuola era tutta disastrata che le strade non erano e dicevo ma come posso pretendere che loro capiscano l'importanza della valorizzazione quando hanno tutti questi problemi però se ci si muove ora l'archeologia è diventata anche di moda e anche i politici i politici ci tengono speriamo che l'azione dia dei finanziamenti che i comuni comunque riescano ad avere dei soldi fare dei progetti anche piccoli però certo poi chiaramente mi farebbe piacere che ci fosse Sara Floris che non so se sta ascoltando è lì di Uras che ha fatto questi lavori che è di Uras stessa però a un certo punto come è successo per Mogoro prima c'era Sandrina Carta poi si fa un bando vincono altri certo e si continua però intanto è importante che il monumento sia aperto sia fruibile e valorizzato e Mina sono le 8 e 20 quindi io ti ringrazio io ti ringrazio per questa passeggiata grazie a tutti grazie a tutti poteva andare meglio io sono un po' così quando si parla a braccio si dicono certe cose non se ne dicono altre spero che quelle che ho detto ma abbiamo seguito un bel filo dai io volevo dare in chiusura l'appuntamento per le prossime serate un ebook che saranno con il mio professore Giovanni Ugas che ha accettato l'invito quindi lo ringrazio tantissimo con lui tra l'altro affronteremo lui farà due serate perché ha detto che in una non riuscirà a parlare di ciò che vuole dire e quindi chiaramente a me fa solo piacere perché il professor Ugas quando viene coinvolto in queste iniziative è una miniera di informazioni lui pensa che ha scelto di parlare degli scavi che ha fatto su un murino di Vilanova Franca ma dividendolo in due segmenti farà la prima il nuraghe fortezza e la seconda il riutilizzo come nuraghe tempio quindi ci affronterà la civiltà nuragica dal punto di vista militarizzato e di residenza del capo e dal punto di vista poi della riutilizzazione come tempio e quindi io non vedo l'ora di ascoltarlo oggi era in una riunione io l'ho sentito Giovanni e oggi aveva una riunione ma mi ha detto che seguirà la registrazione ah benissimo guarda che succede così ci sono contemporaneamente tante altre cose mi ha detto Emila io non posso c'ho una riunione poi lui che è impegnato con l'UNESCO penso ciao grazie a tutti ringraziamo tutti grazie buona serata ci vediamo venerdì prossimo ciao ciao